story time evoluzione radio e bentornati nel salotto di story time di radio italia 5 la radio del centro italia come sempre con la vostra jessica guiggiani come sempre pronti a rendere protagoniste tantissime storie di tantissime realtà da tutta l'italia e non solo liberi professionisti imprenditori artisti ai quali dar voce dal punto di vista radiofoniche web come sempre con la vostra voce amica jessica guiggiani parliamo pensate con un illustratore dalla toscana in fm radio web e sui social story time ufficiali hashtag evoluzione radio seguite michele giorgi ben trovato micchi come stai ciao jessica benissimo grazie posso darti del tuo assolutamente sì e allora tu hai 33 anni sei giovanissimo ragazzino lavori da otto anni nel settore dell'illustrazione esattamente ecco ci racconti un po come nasce la tua passione per il disegno come ti sei formato per quanto riguarda il campo dell'illustrazione sia il tuo primo lavoro dove lo eserci ti si può lanciare un indirizzo dei contatti cosa fai prego ok allora la mia passione è nata da bambino io ho sempre disegnato sempre amato disegnare disegnava anche un sacco con mio padre e poi si è sviluppato questo amore personale per il disegno e a un certo punto io mi sono dovuto adeguare esatto senza un certo punto di ciò che hai per vivere c'è bisogno di soldi e quindi io voglio fare questa cosa per sempre io voglio disegnare tutto il giorno e come si fa bisogna attraversare un percorso di studi o magari anche un percorso professionale per fare ciò e quindi la mia vita è stata incentrata sull'inseguire questo sogno quindi il liceo ed il liceo artistico anche lì l'attitudine era quella perché io avevo voti altissimi o alti comunque in materia artistica in disegno ma bassi sul resto del materiale perché io mi addormentavo sui libri a meraviglioso durante le altre lezioni dormiva mi sembra giusto anche a me è successo una volta due o disegnavo sul sul quaderno direttamente o sul sul banchino ormai anche i professori lo sapevano che meraviglia come facciamo a seguirti come illustratore su facebook instagram linkedin il sito per vedere i tuoi meravigliosi lavori di una vita prego allora si ho tantissimi social uno è su instagram ovviamente con michele giorgi illustrator su facebook mi trovate sempre con michele giorgi illustrator e sono anche su linkedin il sito il sito è michele giorgi illustrator punto com meraviglioso ecco e ad oggi ecco dove eserci come ti sei formato lo abbiamo detto e poi come eserciti nel campo dell'illustrazione se vuoi lanciare un indirizzo ma esercito dal mio studio in casa mia lavoro maggiormente con l'estero a questo punto sei un libro professionista sono un libro professionista si lavoro fin dall'inizio sempre lavorato maggiormente a parte qualche piccolo lavoretto mi sono buttato nel mondo estero perché certo era proprio il settore che piaceva me cioè il fantasy il gioco da tavolo le carte l'illustrazione di gioco come magic the gathering per esempio l'ambiente era essere quindi mi sono dovuto buttare lì per fare ciò che mi rendeva felice come hai trovato questa occasione lavorativa lavori da casa quali sono tutti i tipi di illustrazioni che offri che ti richiedono e tutti i servizi di attività correlate ai disegni prego allora come ho trovato questa attività lavorativa beh io ho fatto la scuola di comics a firenze e lì ho conosciuto insegnanti uno in particolare che è lucio parrillo che è un illustratore un artista molto molto famoso che mi ha consigliato di cercare su internet le aziende le agenzie estere le quali hanno un indirizzo mail alle quali gli artisti possono mandare il proprio portfolio e io ho cominciato a mandare le mie bottiglie con il messaggio di carta nel mare e alla fine qualcuno ha risposto e mi hanno dato la possibilità e da lì è stata una scalata tra le prima le piccole agenzie poi sempre più grandi fino ad arrivare oggi alla wizard of the coast che è la produttrice di magic the gathering e anche dungeons and dragons che è un gioco conosco complimenti davvero ma sei bravissimo grazie come definiresti il tuo stile la tua tecnica il tuo modo di illustrare di lavorare e anche nei tuoi lavori digitali allora io sono partito coi miei studi con la tecnica tradizionale io ho seguito nella scuola di comics e poi personalmente seguendo workshop e altri artisti che tenevano workshop sono partito da tecniche tradizionali acrilice e olio e a me piace molto la pennellata la texture del pennello lo stile un po abbozzato pittorico quindi molto pittorico anche nei lavori digitali tu sei presente anche su artstation ce ne vuoi parlare la vuoi menzionare di che si tratta e poi sei progetti collaborazioni novità cosa ti rende unico e che messaggio e dedica vuoi lanciare allora artstation è un social sviluppato per gli artisti quindi dove si tratta unicamente si possono ottimamente lavori artistici 3d 2d e dove si può trovare anche collaborazioni con altre aziende al momento sono delle collaborazioni che stanno per arrivare che forse arriveranno ma non posso parlarne perché sono la prossima assolutamente sì novità eventi date cosa vuoi aggiungere quello che vuoi novità allora sarò presente al a modena per la fiera di modena modena scusa non mi ricordo quale vabbè ha una fiera una fiera non c'è problema e basta perfetto meraviglioso caro io spero di averti fatto sentire a casa e dire averti presto a radio italia 5 torni a trovarmi assolutamente sì quando ci sarà occasione volentieri michele giorgi illustrator seguitelo ovunque realizza anche carte magiche lavora per per la wizard of the coast complimenti davvero a chi dedichi l'intervista la dedico alla mia compagna diana che mi ha sempre supportato e che anche oggi continuo a farlo è qui con te è sempre con te è sempre con te non è venuto oggi ma sì è sempre con me certo che sì diana hai un compagno meraviglioso e un vero professionista e sicuramente tu sarai come lui ciao al prossimo story time e seguite radio italia 5 torna michele giorgi illustratori ciao ciao story time evoluzione radio